Grazie mille Alberto, sono io che ringrazio te e voi per l'invito, effettivamente è stato un piacere venire qui a Genova perché raramente si vedono dipartimenti che aprono nuove linee di ricerca. Genova ha avuto secondo me la lungimiranza di aprire una linea di ricerca in astrofisica e cosmologia e certamente era un'opportunità molto ghiotta da accogliere, quindi sono venuto estremamente volentieri e devo dire che l'ambiente è molto fertile per l'astrofisica e la cosmologia. Gli studenti sono molto interessati, si sta creando un gruppo abbastanza coeso e ben introdotto nella ricerca internazionale, quindi molto bene fino adesso, molto bene. Allora io stasera volevo parlarvi più specificatamente di cosmologia più che di astrofisica. Allora la cosmologia ha una caratteristica abbastanza peculiare nell'ambito delle scienze fisiche. Una scienza fisica è tale se si può testare la validità in laboratorio, quindi avete bisogno di fare degli esperimenti. In astronomia questa possibilità non c'è, non potete creare una stella in laboratorio, però potete fare un'altra cosa, potete osservare quello che la natura ha già fatto per voi. Quindi siete interessati a stelle di un certo tipo? Benissimo, osservate la galassia, ne trovate quante ne volete, ha diversi stadi di evoluzione con diverse caratteristiche e di fatto la natura ha fatto tanti esperimenti per voi e voi potete testare il vostro modello, la vostra teoria. Per la cosmologia, la cosmologia studia non gli oggetti nell'universo ma l'universo in sé, la cosa è più complicata perché di universo ce n'è uno solo. Quindi dovete fare un'ipotesi. L'ipotesi che dovete fare è che la parte di universo che noi osserviamo, che non è tutto l'universo, sia rappresentativa di tutto l'universo anche quello che non osserviamo. Prima cosa. Seconda cosa è che anche diversi pezzi di universo siano rappresentativi dell'universo intero, così da avere tanti esperimenti diversi che l'universo ha fatto per voi. Non c'è nessun motivo di credere che non sia così, però è un'ipotesi. Quindi l'obiettivo della cosmologia è quello di spiegare, descrivere il funzionamento dell'universo, come è nato, come evolve, eccetera, eccetera. E per farlo ovviamente avete bisogno di una buona teoria che vi permetta di modellare l'universo. La buona teoria ce l'abbiamo, ce l'ha data questo signore. Vediamo se riesco a... Girare le slide. Mi sa di no. Eccola qua. Ok. Ce l'ha data questo signore. La teoria della relatività generale è la teoria della gravità che ci serve. Non ci serve molto di più, perché l'universo sostanzialmente, nell'universo, ci serve solo una forza, una forza fondamentale, che è la forza di gravità. Le altre forze contano poco sulle scale astrofisiche e cosmologiche. Quindi con una buona teoria della gravità riusciamo ad avere un modello che ci spieghi, che ci descriva come funziona l'universo. E dal 1915, l'anno in cui Albert Einstein ha pubblicato il suo lavoro sulla relatività generale, questa teoria ce l'abbiamo. Non che fosse la prima volta che noi avevamo una teoria sulla gravitazione, quella prima ce l'aveva data questo signore. Mi è sembrato brutto non citare Newton quando siamo qui a parlare del baule di Newton. In effetti Newton aveva già elaborato una teoria della gravità, la teoria della gravitazione universale nel 1687, ed è un'ottima teoria, spiega un sacco di fenomeni, ma non riesce a tener conto dell'evoluzione dell'universo. Per spiegare, per fare cosmologia, avete bisogno della relatività generale. Benissimo. Quello che dobbiamo fare quindi è prendere la teoria di Einstein e fare un modellino, un modello, che spieghi come funziona l'universo, che spieghi tutte le osservazioni che abbiamo sull'universo inteso come sistema fisico. E sono tante, sono tante. Ora, questo modello ce l'abbiamo, lo chiamiamo pomposamente il modello cosmologico standard. Il modello cosmologico standard è un modello meraviglioso, nel senso che con pochissimi ingredienti, di fatto sei ingredienti, e la teoria della relatività alla base, riesce a descrivere una quantità di fenomeni davvero impressionante, su scale molto diverse, scale di lunghezza, scale di tempi. È un modello che funziona benissimo, e questa è la parte chiara della mia presentazione, ma ha delle componenti oscure, a cui arriveremo dopo. Tanto comincio a dirvi alcune delle cose che spiega. Una cosa che spiega è quella che ha trovato questo signore, Edwin Hubble, nel 1929. Questo signore ha osservato 24 galassie esterne e ne ha osservato sia la distanza, scusate, ecco qua, e la velocità. Ha misurato sia la distanza che la velocità e ha trovato che la velocità e la distanza di questi oggetti erano correlati. Più distanti, più si allontanavano velocemente. L'osservazione fondamentale è quindi che nell'universo gli oggetti, più sono distanti, più velocemente si allontanano da noi. A meno di non ipotizzare, cosa per la quale non abbiamo nessun motivo di credere che sia vera, né abbiamo osservazioni che ce lo dimostrino, ovvero di ipotizzare che noi ci troviamo in un posto estremamente speciale, questa informazione ci sta dicendo che è l'universo stesso che si espande. Da circa cent'anni noi sappiamo che l'universo si espande, si sta espandendo. Altra osservazione fondamentale è stata fatta circa 35 anni dopo, da questi due signori, che come vedete, ho messo qui le medagliette, hanno vinto il premio Nobel, ed è la seguente osservazione. Se voi osservate il cielo non nella luce visibile, ma immaginate di mettervi degli occhiali sensibili alle microonde, quello che voi vedreste è un cielo molto diverso da quello che vedete di notte, è un cielo fatto così. Questo è semplicemente la rappresentazione sul piano della sfera celeste. estremamente uniforme, estremamente uniforme. Questa radiazione, questi fotoni che ci arrivano, sono distribuiti in maniera molto molto isotropa, non solo. Ma se vi analizzate da vicino e guardate la loro distribuzione in energia, hanno la stessa distribuzione in energia che potete osservare, per esempio, quando guardate la superficie del Sole. È come se stesse guardando una superficie di un Sole molto molto liscio, molto liscio, però con una temperatura non di 5500 gradi, come la superficie del nostro Sole, ma di circa 270 gradi sotto zero. E questo è perfettamente in linea con l'idea che l'Universo si sta espandendo, perché quello che stiamo vedendo è di fatto una superficie che è stata tanto calda quanto quella solare, ma a causa dell'espansione dell'Universo questa luce si è raffreddata. Di fatto, quello che questa osservazione ci ha detto è che nel passato il nostro Universo era molto più caldo, molto più denso di quello che è adesso. Quindi c'è stata un'evoluzione notevole. Il modello cosmologico spiega questa cosa. Qui ho scritto una cosa. Questo fondo cosmico nella banda del microonde è quasi isotropo. Quasi cosa vuol dire? Vuol dire che se voi provate, immaginate questa mappa come un palinsesto che è stato raschiato. Sotto, se andate a vedere, se andate a osservare con molta attenzione e riuscite ad avere una sensibilità sulle variazioni di una parte su 100.000, quello che riuscite a vedere è una mappa di questo tipo. Ovvero cominciate a vedere delle variazioni nella temperatura da punto a punto. Ma sono molto piccole. Sono variazioni dell'ordine di una parte su 100.000. Quei due signori hanno vinto il premio Nobel anche loro perché queste fluttuazioni le stavano cercando. Perché le stavano cercando? Perché se l'universo fosse stato davvero così liscio, perfettamente liscio, non ci sarebbe stato modo di creare le galassie, gli ammassi di galassie, tutte le strutture cosmiche che osserviamo. C'era bisogno di osservare delle piccole variazioni nella temperatura e anche nella densità della materia da cui in seguito si sarebbero sviluppate le strutture cosmiche. E nel 1992 sono state trovate. E quindi premio Nobel. Quindi abbiamo un modello che ci dice molte cose sull'universo, ci dice che nel passato era caldo, ci dice che sta espandendo, e ci dice anche, ci dà anche la ricetta di come possono essersi formate tutte le strutture che osserviamo nell'universo attuale. No, si è bloccato Microsoft. C'era qualcosina che non funziona. Allora, intanto continuo a parlare. Questa è, diciamo così, la mappa dei semini da cui poi si sarebbero sviluppate le strutture cosmiche che adesso osserviamo. E quindi abbiamo, con il nostro modello cosmologico, una descrizione quantitativa molto precisa di come questo processo è avvenuto e quindi ci dice anche... No, non c'è nessun video. Ah, forse c'è una... Sì, c'è una variazione. Sì, c'è una... Dicevo, quindi noi abbiamo un modello che ci dice da come queste fluttuazioni molto piccole si sono formate le strutture cosmiche. Il modello cosmologico si è molto arricchito nel senso che oltre alla semplice gravità è stata introdotta anche molta altra fisica e infatti ormai parliamo di cosmologia fisica per spiegare e per descrivere tutta la ricchezza che vediamo nell'universo, tutte le strutture che osserviamo. Il nostro modello cosmologico questa possibilità ce la dà. e volevo farvi appunto vedere che le strutture che osserviamo nell'universo sono veramente molto varie e abbiamo ormai una visione della distribuzione della materia nell'universo che è molto chiara, riusciamo a descriverla in maniera quantitativa molto, molto precisamente. Sì, diciamo che era quella qui. Allora, nella parte a sinistra quella che vedete è una diapositiva che vi farò vedere, è un'immagine che vedrete ancora. È l'immagine di un ammasso di galassie, e quei puntini bianchi sono delle galassie. Ce ne sono circa un migliaio ed è una classica struttura che osserviamo nell'universo. Appunto un ammasso di galassie, una concentrazione di galassie molto cospicua e vedete che non è particolarmente regolare né sferica. Ha questa struttura un po' filamentare. La struttura filamentare è qualcosa che noi osserviamo nell'universo su scale più grandi. Lo vedete male purtroppo in quel piccolo riquadro che non è un'osservazione, è una simulazione che riproduce le osservazioni e che ci mostra come la distribuzione della materia nell'universo sia molto strutturata, sia molto coerente spazialmente. Le strutture come quella si formano ai nodi tra questi filamenti che sembrano formare una ragnatela. Sembra molto simile al tessuto nervoso come idea. E appunto la teoria che noi abbiamo, il modello che noi possediamo ci permette di descrivere in maniera quantitativa estremamente precisa le proprietà della distribuzione di materia. Quindi è un modello che davvero riesce a descrivere praticamente tutto dalla scala della galassia alla scala dell'universo osservabile. Ok. E diciamo la persona che ha permesso diciamo così di transire dalla cosmologia classica alla cosmologia fisica è Jim Peebles a cui è stato dato per l'appunto il premio Nobel qualche anno fa e come vedete è tra le persone che ci hanno permesso di studiare in maniera quantitativa e di predire in maniera quantitativa come mai la distribuzione di massa in questo nell'universo ha questa caratteristica molto strutturata. Il modello cosmologico ci permette di descrivere quindi diciamo tutta la fenomenologia sostanzialmente tutta la fenomenologia molto varia e molto ricca che noi abbiamo a disposizione ma lo fa ad un prezzo molto molto alto quella che vedete lì è quel diagramma torta rappresenta la distribuzione in percentuale di delle varie componenti e del loro contributo diciamo al budget di massa ed energia dell'universo quello che quel piccolo diagramma mostra è che per quanto ne sappiamo per quanto osserviamo soltanto il 5% della massa e energia nell'universo è composta da particelle note atomi fotoni eccetera il 25% è composto da una componente che chiamiamo materia oscura dirò qualcosa di più fra poco è una componente sostanzialmente ignota il 70% un po' di più è composta da una componente ancora più ignota che chiamiamo energia oscura ci sono queste due componenti oscure all'interno del modello senza le quali il modello non funziona le mettete il modello funziona bellissimo ma senza queste componenti non funziona allora quello su cui adesso voglio concentrarmi è appunto capire la natura di queste componenti ma prima consentitemi di fare una digressione quando parliamo di componenti oscure nuove componenti quello che noi stiamo facendo è sostanzialmente quello che si fa di solito quando si fa scienza quando si fa fisica avete una teoria in questo caso la teoria della relatività generale avete un modello per descrivere un sistema fisico e a un certo punto arrivano delle osservazioni che sembrano o in realtà lo fanno falsificano il vostro modello a quel punto avete due strade che potete percorrere o modificate ad occhi il momento il modello ma lasciate la teoria non toccata la lasciate così com'è oppure modificate la teoria fondamentale cerco di fare un esempio che ho preso dalla storia dell'astronomia un esempio molto interessante secondo me è molto emblematico e faccio una piccola digressione questo signore probabilmente a voi non dice niente questo signore è Urbain Leverier che per un certo periodo per qualche anno è stato probabilmente avuto una fama tra non soltanto tra gli scienziati ma nel pubblico in generale confrontabile con quella che ha avuto Einstein all'inizio del secolo scorso perché è stato così famoso questo signore questo signore era un astronomo o meglio un meccanico celeste di fatto un matematico che tra le altre cose studiava le orbite dei pianeti e le orbite dei pianeti sono diciamo vi consentono di testare la bontà della teoria in questo caso della gravitazione universale all'epoca vi consentivano di farlo in maniera estremamente precisa il massimo che si potesse fare in particolare c'era un problema legato all'orbita dell'ultimo pianeta del sistema solare allora noto che era Urano l'orbita di Urano non seguiva le predizioni del modello il modello era quello di Newton e semplicemente quello che si trovava questo è il diagramma che mostra quanto deviano le osservazioni dalla predizione quanto si discosta dallo zero questa serie di punti semplicemente questo discostarsi vi sta dicendo che il modello che voi usate per predire l'orbita di Urano non funziona abbastanza bene a questo punto avete due possibilità o buttate via la teoria della gravitazione universale o introducete un nuovo elemento nel modello in questo caso il modello è quello del sistema solare e quello che Leverie fece fu semplicemente di introdurre un nuovo elemento un nuovo oggetto oscuro un pianeta esterno che perturbasse l'orbita di Urano un esercizio molto difficile questo un esercizio sostanzialmente si tratta di risolvere un problema inverso date queste perturbazioni trovare il perturbatore e Leverie lo fece in maniera brillante fece i suoi conti disse predisse dove doveva essere il pianeta e sostanzialmente date le coordinate predette erano queste questa è una carta stellare dell'epoca il pianeta una settimana dopo venne trovato a pochissimi arcominuti di distanza un successo enorme e giustamente Leverie divenne l'uomo del momento venne chiamato venne glorificato come l'uomo che aveva scoperto un pianeta sulla punta di una penna e appunto la sua fama andò molto oltre quella della la semplice comunità scientifica ora Leverie oltre all'orbita di Urano si era anche concentrato sull'orbita di un altro pianeta che aveva delle deviazioni quel pianeta Mercurio è il pianeta più interno del sistema solare l'orbita mi Mercurio eccola qua presenta una peculiarità è un'orbita cosiddetta rosetta non è una ellisse chiusa ma il punto più vicino dell'orbita quello più vicino al sole che si chiama perielio non rimane sempre nella stessa posizione precede col tempo ovviamente questa è una figura molto esagerata l'effetto è molto più piccolo ma era abbastanza grande per non poter essere diciamo così essere previsto dalla teoria allora 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 disponibile e quindi Leverier fece esattamente la stessa cosa che aveva fatto per Urano cioè predisse la presenza di un perturbatore quindi di un pianeta interno che chiamò il pianeta Vulcano e Leverier era così fiamoso che questa diciamo questa possibilità venne data sostanzialmente per scontata infatti se guardate le mappe dell'epoca questa è una litografia dell'epoca vedete che internamente all'orbita di Mercurio c'è anche il pianeta Vulcano ora il pianeta Vulcano noi non l'abbiamo mai trovato Leverier è morto senza riuscire ad avere una conferma della sua teoria non c'era nessun perturbatore non c'era nessuna necessità e possibilità di modificare il modello mettendogli dentro un oggetto oscuro nel senso che non era ancora stato osservato in questo caso l'alternativa era quella di cambiare completamente la teoria non più la teoria della gravitazione universale ma la teoria della relatività generale che tiene conto delle deviazioni dell'orbita di Mercurio fine digressione noi siamo in cosmologia più o meno nella stessa condizione abbiamo la necessità abbiamo avuto la necessità di introdurre queste due componenti che chiamiamo oscure la materia oscura l'energia oscura materia oscura per prima questa signora Vera Rubin studiava le galassie era un'astronoma estremamente in gamba studiava questi oggetti le galassie questa è una galassia più o meno come la nostra una galassia a disco è un oggetto molto massivo contiene circa 100 miliardi di stelle e ruota intorno al proprio asse ha una sua velocità di rotazione e la velocità di rotazione è un oggetto dinamicamente stabile dipende dalla massa dell'oggetto conoscendo quanta massa l'oggetto contiene in stelle è possibile predire la velocità di rotazione dell'oggetto bene quello che Vera Rubin trovò all'epoca nel 1970 fu che queste galassie tutte le galassie poi abbiamo scoperto ruota troppo velocemente la curva di rotazione delle galassie cioè la velocità in funzione della distanza quei punti sperimentali stanno sopra questa che sarebbe la predizione della velocità che voi fate se tutta la massa dell'oggetto fosse quella che vedete quindi c'è molta massa in più quella che viene chiamata appunto materia oscura avete bisogno di una componente ulteriore ora non era la prima volta che si notava la presenza di questa materia oscura era successo in realtà che parecchi anni prima nel 1933 l'astronomo fritz swicki l'astronomo svizzero in america aveva studiato le proprietà di questi oggetti ne abbiamo già visto uno questo è un altro ammasso di galassie l'ammasso di galassie abbiamo detto è un insieme un'aggregazione di galassie non semplicemente stelle che si muovono la velocità con cui queste galassie si muovono all'interno della struttura è una velocità caotica ma l'ampiezza la magnitudine di questa velocità dipende da quanta massa c'è all'interno di tutta la struttura di nuovo la velocità di quelle galassie è troppo grande rispetto a quella che si dovrebbe avere se tutta la massa in quell'oggetto fosse contenuta nelle galassie di nuovo c'è un'evidenza indiretta di una componente di materia che non vediamo e quindi oscura Zwicky che era una persona molto intelligente disse anche guardate c'è questa nuovissima teoria è uscita pochi anni fa la teoria della relatività generale pochi astronomi la capivano allora e disse questa cosa se ho ragione io e se questo oggetto contiene tanta massa molta di più di quella che vediamo allora questo oggetto dovrebbe anche agire da lente gravitazionale e modificare l'immagine delle galassie che stanno dietro di lui questa ipotesi è stata verificata molti anni dopo questo è il centro di un ammasso questa immagine è un po' buffa ma questi oggetti qua questi oggetti ad arco sono esattamente delle galassie che stanno molto più distante dell'ammasso dietro e come vedete la loro forma è completamente distorta a causa della massa di questo oggetto esattamente come farebbe una lente ottica solo che qui il lavoro della lente ottica lo fa la massa oscura dell'oggetto e quindi anche abbiamo anche sulle scale degli ammassi un'evidenza indiretta che ci sia della materia in più nell'universo abbiamo altre evidenze di questo tipo talmente tante che la comunità si è convinta che ci sia davvero bisogno di una nuova componente che chiamiamo materia oscura questa materia oscura come vi ho detto ha un'abbondanza che è circa sei volte quella della materia ordinaria sappiamo per certo che non può essere fatta da particelle ordinarie quindi l'esistenza di questa materia rappresenta un problema fondamentale non solo per la cosmologia ma anche per la fisica e però se la introducete con le caratteristiche dovute il modello cosmologico riesce a predire e descrivere la dinamica di quei sistemi la dinamica di tutti i sistemi che osserviamo in maniera estremamente precisa ora la materia oscura è un bel problema chi lo risolve ovviamente prende il premio Nobel ma ce n'è uno ancora più grosso che è saltato fuori nel 1997-98 questo grafico lo avete visto all'inizio è quello originale di Hubble le 24 galassie di cui è stata misurata la velocità e la distanza questo stesso esercizio è stato ripetuto negli anni sempre usando oggetti sempre più distanti scale molto più grandi finché nella metà degli anni 90 questo esercizio è stato esteso a scale estremamente grandi vediamo se riesce a partire l'animazione vediamo no non riesce a partire l'animazione peccato volevo solo farvi vedere che qui questo quadratino bianco è esattamente sulla scala dell'osservazione che aveva fatto Hubble questa è la scala che osserviamo adesso è lo stesso diagramma sostanzialmente solamente che quando andate a scale molto grandi e fate questo stesso esercizio vi accorgete che gli oggetti che si allontanano perché l'universo espande quelli che si allontanano molto velocemente e che dovrebbero essere a una certa distanza predetta dalla teoria in realtà sono un pochino più vicini cosa vuol dire questa cosa questa cosa vuol dire che l'universo ha nell'ultimo miliardo di anni accelerato la propria espansione ma sembra una cosa da niente ma è una cosa assolutamente sconvolgente perché vi ho detto che nell'universo la forza che davvero conta è la gravità è la gravità che tiene insieme il sistema e la gravità è una forza attrattiva quindi se voi avete un universo che espande i vari punti le varie masse dell'universo si attraggono e questa espansione necessariamente deve rallentare col tempo quello che stiamo trovando è che viceversa l'accelerazione l'espansione sta accelerando per farvi un'analogia un po' stupida è come se voi passeggiaste in un parco giochi a un certo punto trovate un'altalena e date una botta quello che vedete l'altalena comincia a oscillare c'è l'attrito dopo un po' le oscillazioni vanno scemando però a un certo punto vedete che le oscillazioni riprendono senza che voi abbiate fatto niente e diventano sempre più ampie è esattamente quello che sta succedendo al nostro universo ora il motivo per cui ciò succede è non lo sappiamo e quindi invochiamo la presenza di una nuova componente che chiamiamo energia oscura ed è una componente che è necessaria appunto per produrre diciamo così un campo di gravità negativa non è esattamente così ma giusto per giusto per darvi l'impressione effettiva di quello che fa che permetta all'universo di espandere in maniera accelerata ok la chiamiamo oscura non perché non si veda questa oscura l'aggettivo oscuro diversamente da quello di prima non ha niente di tecnico è più metaforico è oscura perché davvero non abbiamo idea di cosa sia questa è una possibilità o la possibilità alternativa è quella di modificare la teoria della relatività generale su scale cosmologica quindi noi ci troviamo nella situazione in cosmologia di avere un modello estremamente efficace in cui però dobbiamo invocare la presenza di queste due componenti la materia oscura e l'energia oscura la cui natura ci è completamente ignota per la materia oscura abbiamo dei vincoli sperimentali abbastanza precisi per l'energia oscura molto più laschi l'esistenza di queste due componenti che ormai sono lì è molto difficile è impossibile farne a meno ripeto pone un problema fondamentale non per la cosmologia ma per la fisica per la fisica fondamentale come possiamo risolvere questo problema beh dal lato cosmologia che è il lato che interessa a me l'unica cosa la cosa migliore che possiamo fare è fare misure sempre più precise che possano vincolare le proprietà di queste componenti osservando regioni sempre più grandi di universo in realtà quello che vogliamo fare è osservare due cose osservare regioni sempre più grandi per capire la storia di espansione dell'universo inteso come sistema globale quindi vedere quanto velocemente si è espanso osservazione numero uno osservazione numero due vedere come le strutture cosmiche all'interno dell'universo si sono evolute e sono cresciute sono due osservazioni legate ma indipendenti ok per farlo abbiamo bisogno di osservare extragalattici galassie ammassi eccetera eccetera in una frazione su regioni su volumi sempre più grandi di universo di spingere le nostre osservazioni più in là possibile ed è esattamente adesso dispenderò qualche parola quello che stiamo cercando di fare qui a Genova per farlo questo è uno sforzo che tutta la comunità scientifica internazionale sta facendo per farlo dunque per riuscire a raggiungere questi obiettivi quello che si sta facendo è cercare di osservare di fare campagne osservative utilizzando grandi telescopi ma soprattutto in grado di andare molto profondi e guardare aree molto grandi volumi molto grandi questa cosa si sta facendo sia con telescopi da terra e questa è la cosiddetta survey desi e la survey che verrà fatta dal telescopio Rubin ma anche e questa è una cosa molto nuova ma anche dallo spazio dallo spazio è stato lanciato un satellite di recente che si chiama Euclid e che vi ho portato nel di cui ho portato un modellino nel nel baule che sta cominciando a fare esattamente questa cosa Euclid di cui adesso vi dirò un paio di cosine eccolo qua gentilmente confezionato dai miei studenti di dottorato sono seduti lì in quarta fila e quello vero è molto più grosso di così 4 metri ma soprattutto in questo momento sta a un milione e mezzo di chilometri da qui è stato lanciato il primo luglio eccolo qua questa è la questa è l'ultima foto che è stata fatta a terra prima che venisse messo dentro al dentro al razzo vettore è stato lanciato il primo luglio e quello che farà sarà di osservare di misurare la posizione delle galassie in circa un terzo della sfera celeste ok 15.000 gradi che sono veramente tanti qui avrei bisogno davvero di fare l'animazione se possibile allora vediamo un pochino qua siamo passati a quello dopo ci siamo eccola qua allora questa l'avete vista prima è la stessa foto di prima solo che adesso quello che voglio mostrarvi se ci riesco è che in effetti quello che Euclid farà non sarà di guardare questi ammassi questi li abbiamo già visti li conosciamo molto bene ma di andare come direbbe immagino Federico Zeri oltre l'immagine ovvero andare più profondi e adesso speriamo che funzioni questo zoom eh purtroppo era la parte più sexy di tutto il eccoci qua benissimo ok allora siamo andati abbiamo zoomato nell'immagine e quello che troviamo in un'immagine di questo tipo sono questi oggetti qua che sono stelle della nostra galassia questi oggetti qua che avete già visto e che sono le galassie queste qua bianche dell'ammasso di Perseo e poi tutti questi oggetti qua vedete che sono galassie che stanno dietro in quell'immagine ce ne sono circa centomila vediamo di andare oltre e in un'immagine così che è la tipica immagine che il satellite Euclid riuscirà a prendere ripeto ci sono circa si è vista anche l'animazione questo è un altro pezzo dell'immagine vedete sempre la stessa cosa peccato che non si veda l'animazione perché ci sarebbe una strisciata su tutta l'immagine che è enorme davvero enorme andiamo in un altro pezzettino dicevo questa immagine contiene ed è un'immagine sola contiene circa centomila oggetti centomila galassie di cui vogliamo misurare la distanza e Euclid questo satellite prenderà circa quarantamila immagini così quarantamila immagini così da cui presumibilmente per ognuna di queste immagini riuscirà a misurare la distanza diciamo più o meno bene di venticinquemila galassie e molto bene poi vi dirò come di circa un terzo di quelle un decimo di quelle ok è stato un po' troppo quindi alla fine quello che si riuscirà che vogliamo ottenere andiamo più avanti ok grazie se possibile quello che vogliamo ottenere è di mappare la posizione di circa un miliardo un miliardo di galassie con una precisione sulla distanza abbastanza abbastanza lasca in modo tale che ci sia consentito fare un'immagine diciamo così tomografica dell'universo e di osservare invece la distanza molto precisa di circa 30 milioni di galassie di cui possiamo invece mappare molto precisamente la loro distanza quindi mappare la struttura tridimensionale come l'avete vista prima ma con 30 milioni di oggetti ecco questa immagine qui è circa un sedicesimo dell'immagine di quella che avete che avete visto prima ok perché vi ho fatto vedere un sedicesimo perché ogni volta che Euclid prende un'immagine oltre all'immagine misura anche gli spettri degli oggetti eccoli qua di tutti quelli che ci sono nell'immagine se volete misurare precisamente la distanza degli oggetti dovete prendere ognuno di quegli spettri vedere se se quegli spettri trovate qualche riga di emissione o di assorbimento soprattutto e da quelle misurare usare quella riga per inferire la distanza dell'oggetto si tratta per farla breve di prendere immagini di questo tipo moltiplicarla per 16 moltiplicarla per 40.000 e analizzarle tutte ok questo è ciò di cui abbiamo bisogno per poter vincolare le proprietà di queste componenti oscure con sufficiente precisione per poter capire di cosa si tratta e quindi ultima slide quello che cercheremo di fare nei prossimi sei anni la durata della missione che è appena iniziata è di mappare un terzo del cielo usare circa un miliardo di galassie per analisi scientifica e circa 30 milioni per avere una mappa tridimensionale del cosmo ci aspettiamo di avere i primi risultati nel 2025 di finire la survey nel 2029 e sperabilmente magari ve lo racconto fra qualche anno vediamo di capire se possiamo dire qualcosa di più su queste componenti oscure direi che così ho finito